Andiamo avanti parlando di Svevo. A proposito della coscienza di Zeno abbiamo sottolineato alcuni concetti fondamentali, in particolare la relazione che esiste fra verità e menzogna, una relazione estremamente ambigua e soprattutto il tema della malattia contrapposta alla salute, quindi lo abbiamo visto in particolare nella pagina dedicata alla descrizione di Augusta che può considerarsi una pagina fondamentale per intendere complessivamente le tematiche che fungono da filo conduttore nella coscienza di Zeno, quindi verità e menzogna, i malati e i sani e poi il grande tema della psicoanalisi e del rapporto del tutto particolare che esiste fra Zeno e la psicoanalisi, ma soprattutto fra Svevo e la psicoanalisi, perché comunque è un rapporto anch'esso caratterizzato da una serie di contraddizioni. Come ho detto nel video precedente, alla fine Svevo, anche per esperienze familiari, considerava la psicoanalisi uno strumento acuto utile soprattutto ai romanzieri, più che ai malati come strumento terapeutico, agli scrittori, agli intellettuali, ai filosofi, perché in qualche modo attraverso l'arma della psicoanalisi si riesce a sviscerare le contraddizioni della vita individuale moderna. Quindi grosso modo sono queste le tematiche che ho cercato di rappresentare, di enucleare nei video precedenti, quindi psicoanalisi, verità e menzogna, i malati e i sani. Ho parlato anche del tema dell'initto, che è un tema non soltanto sveviano, ma che ritroviamo anche in altri autori. Ho citato il film Mattia Pascal, per esempio, di Pirandello, ho citato un testo importante, significativo da questo punto di vista di Guido Gozzano, la poesia Totò Merumeni. Ho detto in pratica che cosa? Che il tema della inettitudine, della incapacità di adattarsi ad un certo tipo di vita, è comunque un tema caratteristico della letteratura di questo periodo. È un tema, se andiamo a ben vedere, che ha delle ascendenze schopenhaueriane, cioè in qualche modo è collegabile alla filosofia di Schopenhauer, che è una fonte importante di suggestioni per la cultura di questo periodo. A proposito però del tema dell'initto, forse è importante fare una distinzione. Che differenza c'è fra l'inetto, per esempio, sveviano o pirandelliano e il vinto che troviamo nella narrativa di Verga, per dire. Qual è la differenza appunto fra inetti e vinti? I vinti sono coloro che per i meccanismi impietosi della società e del progresso sono in pratica regettati indietro, sono degli sconfitti, sono persone che vengono abbandonate sulla riva della grande fiumana del progresso, come dice Verga, nella prefazione al ciclo dei vinti. Perché? Perché hanno cercato attivamente di superare i limiti, il livello della loro classe. Quindi il problema dei vinti è un problema, se vogliamo, di lotta all'interno della società. Una lotta che, proprio per i meccanismi intrinseci della società, è una lotta di stampo darwiniano. Esistono necessariamente vinti da una parte e vincitori dall'altra. E d'accordo. Linetto, invece, ha una diversa qualità di vita. Qualunque sia la categoria sociale a cui Linetto appartiene, in generale Linetto è un borghese con velleità artistiche, con velleità letterarie o filosofiche. L'inettitudine di questi personaggi è legata piuttosto alla incapacità di quindi adattarsi alla vita contemporanea. È un qualcosa che sta alla base del cosiddetto male di vivere. È forse una reinterpretazione, in chiave decadente, di quel mal de vivre che era stato già trattato dagli autori romantici. È il caso, appunto, di Svevo, per certi aspetti. È il caso dei protagonisti sveviani dei romanzi precedenti, quindi del protagonista di una vita e del protagonista di Selinità. È il caso anche di Zeno. Zeno è un uomo che riflette molto, è un uomo che in virtù di questa sua posizione di malato, che lo pone, per così dire, in una posizione straniata rispetto alla normalità. Lo mette sotto un certo profilo a poter contemplare, insomma, la vita degli altri da un punto di vista privilegiato perché lui la contempla dal suo punto di vista di malato, appunto, d'accordo? E però questo distacco, questa incapacità di riconoscersi nelle routine, nei miti, nelle certezze di tutti gli altri, dei cosiddetti sani, fa in definitiva di lui che cosa? Un sognatore, un inetto, appunto, uno che gli altri considerano un incapace, no? Ma semplicemente perché lui forse vede più lontano degli altri. Questo è ribadito, tra l'altro, da Svevo, proprio nella pagina che ho detto essere una pagina centrale nella coscienza di Zeno, la pagina in cui lui descrive, appunto, la presunta sanità, la presunta salute di Augusta, no? Quando lui sostanzialmente dice che cosa, che cosa dice, no? Dice questo, cercando il, cercando il passo, dice questo, la salute non analizza se stessa e neppure si guarda nello specchio, solo noi malati sappiamo qualche cosa di noi stessi. Quindi il malato, il malato, il nevrotico, quello che comunque, appunto, ha questa sorta di malattia di inettitudine, è colui che è in grado di guardare più profondamente in se stesso. Forse o forse no, perché come abbiamo detto anche nei video precedenti, resta il fatto che nella coscienza di Zeno c'è questo continuo gioco di verità e menzogna, no? Questo tentativo di autogiustificazione continua da parte di Zeno, no? Quindi anche questa pretesa di superiorità del malato nei confronti dei cosiddetti sani potrebbe essere l'ennesimo alibi, l'ennesima menzogna che Zeno si racconta per sfuggire, in pratica, alla consapevolezza dei suoi limiti e alla consapevolezza delle radici ancora più profonde, se vogliamo inconsce, di quella della sua nevrosi.